Signorini bacia Giulia Delellis e svela un segreto su Andrea Damante Alfonso Signorini entra nella casa del grande fratello Vip, il bacio a Giulia Delellis e la verità su Damante. Colpo di scena al grande fratello Vip, Alfonso Signorini ha baciato Giulia Delellis. Il giornalista è entrato nella casa insieme a Ilari Blasi e, approfittando del frezze, ha dato un bacio sulla fronte all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Subito dopo, appena la romana è stata liberata dalla produzione, i due si sono abbracciati e salutati calorosamente. Pace fatta dunque? Certo che sì! Perché oltre ai baci e agli abbracci, il direttore di Chi ha pure tranquillizzato l'esperta di tendenze sulla sua storia d'amore con Andrea Damante. Signorini ha infatti rivelato a Giulia di aver fatto seguire costantemente Andrea De Paparazzi. Quest'ultimi, però, non sono riusciti fino ad oggi a ricavare alcun scoop sull'extronista di Maria De Filippi. Il veronese, nonostante le numerose serate in giro per l'Italia, sta mantenendo un profilo basso e un comportamento rispettoso nei confronti della sua fidanzata. A tali parole Giulia non ha potuto fare a meno di ribadire, quanto lo amo. Ciao!